La Vigor Senigallia impone la legge del Bianchelli anche nei play-off, battendo 2-1 il Cinzia Albalonga al terno dei 120 minuti combattuti con i ragazzi di Clementi, bravi ancora una volta a rimettere in piedi una partita che l'aveva vista passare in svantaggio. Dopo un avvio a ritmi più blandi di quelli visti durante la stagione e qualche innocua conclusione a fuori, a passare in vantaggio sono i laziali al venticinquesimo. Dalla bandierina di sinistra, Buono manda verso il primo palo, dove Sbardella anticipa tutti deviando di testa alle spalle di Roberto per l'1-0. La Vigor reagisce e sfiora il pareggio alla mezz'ora con Baldini che raccoglie il limite e scarica un sinistro potente e preciso indirizzato all'angolo alto, ma Santilli si supera e vuole a deviare con un intervento producioso negando il gol del pareggio, poi si torna negli spogliatoi con la Vigor sotto di un gol. Nella ripresa i rosso-blu spingono forte e ottengono l'1-1 a metà tempo, l'azione della Vigor si sviluppa sulla verticale sinistra con Gambini che libera di tacco la fuga di Cariota che mette in mezzo il pallone per Baldello, che da due passi non può sbagliare firmando l'1-1. Gli ospiti restano con un uomo in meno a 10 minuti al termine e i tempi regolamentari per l'espulsione per doppia munizione di Buono, ma riescono a reggere sull'insistenza della Vigor trascinando la sfida ai supplementari. Anche nell'extra time sono i padroni di casa a tenere in mano il gioco e dopo aver sfiorato il rodoppo più volte nei primi 15 minuti mettono al sicuro la qualificazione al nono del secondo supplementare con Baldello che sfrutta il rinvio corto di Santilli dalla sua tre quarti per catturare all'altezza della linea di centrocampo il pallone e indirizzare in rete per il 2-1 che chiude il match. Mister D'Antoni serviva solo una vittoria, avevate trovato il vantaggio, poi avete subito un po' la reazione della Vigor a Senigallia, rimasti in dieci si è fatta veramente dura. Sì, vogliamo fare i complimenti a Senigallia perché ha fatto un campionato eccezionale, è una squadra che è in salute, siamo venuti qua secondo me bene, abbiamo fatto fino all'espulsione una buonissima partita, eravamo in partita, purtroppo poi siamo rimasti in dieci e secondo me in una semifinale siamo rimasti in dieci troppo facilmente, l'arbitro non può secondo me in una semifinale playoff mandar fuori un giocatore per un fallo dove eravamo in tre vicino alla palla, spalla a spalla, un intreccio, ci lascia in dieci e la partita poi diventa molto difficile, ci abbiamo provato fino alla fine, non ci siamo riusciti, purtroppo quest'anno col Senigallia abbiamo perso tutte e tre le volte, secondo me meritatamente perché nelle tre partite abbiamo fatto secondo me molto bene e non siamo mai riusciti neanche a pareggiare, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché secondo me hanno interpretato bene la partita e ripeto sarebbe stato molto diverso se non fossimo rimasti in dieci. Mister Clementi, l'ennesima rimonta che vi porta nella finale dei playoff? Sì, una rimonta direi veramente bella in cui credo che sia stata una vigor di qualità, una vigor sciolta, una vigor che ha, come dicevo durante la settimana si è tolta un po' la tensione di domenica scorsa, domenica è stata una giornata non bella, soprattutto una settimana difficile da approcciare, volevamo riscattarci bene di fronte a un pubblico che come sempre ci sta vicino, ci ama e credo che oggi da un punto di vista anche qualitativo si sia vista una bellissima vigor. Giocavamo con la voglia di vincere e questo credo che per una squadra che comunque poteva accettare anche il verdetto di pareggio la dice abbastanza lunga. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di pensare il meno possibile, di mettere in campo la qualità che hanno, l'entusiasmo che hanno, l'intensità e di giocare come se fosse una partita di campionato normale anche perché questa è una squadra che non ha le caratteristiche né tantomeno, nella maggior parte ovviamente dei interpreti non ha quelle caratteristiche di esperienza che ti permettono di gestire, di ragionare e domenica si è visto. Domenica scorsa a Montegiorgio abbiamo avuto una dimostrazione di come la capacità di gestire certe tensioni sia più facile se hai comunque dei campionati importanti alle spalle. Quindi noi siamo questi, siamo questi che dovremmo giocare di entusiasmo, di rapidità, con combinazione, con entusiasmo e andare a cercare sempre di far gol. Oggi siamo andati sotto per l'ennesima volta, ancora una volta in questo campionato, abbiamo dato dimostrazione che è una squadra molto equilibrata e che quando gioca per vincere è sempre difficile da affrontare. Domenica al Bianchelli arriverà il Fano per questa finale e ritrovate Capitan Pesaresi che oggi un po' è mancato. Sì, credo che sia una finale bellissima perché dai, nell'attesa, nell'immaginario sarà molto bello. Siamo due società che credo hanno lavorato molto bene, il Fano forse è la squadra più in forma del campionato, il lavoro di Mosconi e dei ragazzi è incredibile, soprattutto in quest'ultimo periodo, quindi arriveranno molto carichi. Noi dal canto nostro siamo comunque una squadra che credo sta bene e cerchiamo di godercela tutti, cerchiamo di essere tutti molto intelligenti e di vivere molto serenamente una bella partita, una partita in cui magari si affronteranno come sempre due tipologie, un po' di approccio alla partita ma sicuramente entrambe molto valide visto i risultati. sarà bello e ripeto, mi auguro che non ci sia nessun tipo di tensione extra a campo e che possiamo goderci sia noi che loro questa bella partita.